Siamo in compagnia di Goran Olwic, leader della Vasto Basket. Domenica ospiterete Campli. Come arriva la squadra a questo grande appuntamento? La squadra e la società, anche, penso che tutti arriviamo con un grande entusiasmo. Abbiamo lavorato tutta la stagione per arrivare a questo punto, per poterlo lottare per vincere il campionato. Questa domenica abbiamo gara 1 di semifinale contro Campli. Siamo tutti bene fisicamente, stiamo preparando una partita durante la settimana per poter superare questo primo turno, sicuramente. Hai avuto modo di conoscere l'avversario? Quali caratteristiche sono da tenere sott'occhio? Loro sicuramente hanno fatto un ottimo campionato. Sono una squadra che ha dei punti di riferimento in attacco, anche in difesa. Sono una squadra che ha tanti punti nelle mani, giocano in contropiede. Però noi, comunque, abbiamo già giocato due volte contro di loro. Siamo riusciti anche a vedere qualche sbattita loro durante questi play-off. Quindi, penso che la partita l'abbiamo preparata. Adesso solo manca giocare la partita, questa domenica, in campo. Finora, cosa ti piace di più di questa stagione? Voglio dire che io, da quando gioco a vasto, penso che questo gruppo è quello che sta meglio insieme. Ognuno sa quello che deve fare in campo. Siamo un bel gruppo unito anche fuori campo. Penso che la gente che viene al palazzetto a vedere le partite vede un gruppo unito, abbastanza unito. Quindi, penso che questo è uno dei due punti di forza di questa squadra. Ovviamente, tu da leader di questa squadra ti aspetti anche un palazzetto pieno. La cosa fondamentale, penso che a livello di Serie C sono pochi palazzetti come il nostro. Vedere ogni domenica tanta gente al palazzetto fa piacere alla società al sicuro. Fa piacere a noi giocatori che, sinceramente, quando vediamo tanta gente che viene a tifare la squadra possiamo dare anche un po' più di 100%. Grazie a tutti.